Non vogliamo un condominio ma preservare la cittadella romana di Piacenza. È stata una riunione di consulta all'ex circoscrizione 2 dai toni davvero molto aspri. La consulta cultura, turismo, sport e attività ricreative si è così espressa riguardo la costruzione di un condominio sulle scenari del palazzo conosciuto da tutti come Ex-Enel nel centro storico di Piacenza. Presente l'assessore alla cultura Tiziana Albasi, assente invece l'assessore Silvio Bisotti di ritorno da Roma. L'argomento di pregnante interesse è stato quello dei reperti archeologici. A Trento, a Alba e in tantissime altre città italiane i reperti sono stati portati alla luce, non sotterrati. Tanto più che l'Ex-Enel guarda proprio in faccia Palazzo Farnese, dove sono andati a finire i criteri di omogeneità che bisognerebbe rispettare secondo il piano regolatore vigente. Vogliamo una città bella, hanno concluso i presenti, non certo quella che ci state offrendo.